un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovannino tondo ci troviamo proprio accanto all'ingresso del convento che porta nel giardino in questo luogo dove ogni angolo parla della presenza di padre pio da pietre il cina in questo mese il mese di maggio e c'è proprio un racconto tanti sono i racconti legati alla bellezza di questo mese di cui parla il giovane frate di pietrelcina nella sua pietrelcina il 6 maggio del 1913 uno scritto di cento anni fa dove padre pio scrive a padre agostino quanto erano importanti per lui le cure che aveva la madonna nei suoi confronti ecco finalmente ritornato il mese della bella mammina scrive padre pio quante cose belle vorrei dirvi se mi fosse concesso dalla mia povera condizione perché potreste capire qualche cosa del mio stato abituale mi sforzerò per quanto mi verrà concesso lui scrive questa cara mammina seguita a prestarmi premurosamente le sue cure verso di me toccano la ricercatezza soltanto allorché le faccio cenno a quella grazia che voi già sapete il suo volto celeste si contrae tutto si rattriste con solennità mi rinnova il divieto ecco il divieto di cui poi lui parla ovvero il desiderio della morte desidero la morte solo per unirmi con vincoli indissolubili al celeste sposo un divieto arrivava da maria e poi continua che cosa ho io fatto per aver mani meritato tanta squisitezza la mia condotta non è stata forse una smentita continua non dico di suo figlio ma anche al nome stesso di cristiano eppure questa tenerissima madre scrive padre pio nella sua grande misericordia sapienza bontà voluto punirmi in un modo assai eccelso col versare nel mio cuore tali e tante grazie che quando mi trovo alla presenza sua e a quella di gesù sono costretto ad esclamare dove sono dove mi trovo chi è che mi sta vicino mi sento tutto bruciare senza fuoco mi sento stretto e legato al figlio per mezzo di questa madre senza neanche vedere le catene che tanto stretto mi tengono mille fiamme mi consumano sento di morire continuamente e pur sempre vivo e in certi istanti tale il fuoco che qui dentro mi divora che faccio tutti i miei sforzi per allontanarmi da loro per andare in cerca di acqua ed acqua gelata per gittarmi dentro ma in me padre mio mi accorgo subito di essere io assai infelice perché allora più che mai sento di non essere libero le catene che gli occhi miei non vedono le sento che mi tengono stretto a gesù e alla sua madre e in questi istanti che esco il più delle volte in escandescenza sento che il sangue mi affluisce al cuore da questo alla testa sono tentato di gridare loro in viso e di chiamare crudele il figlio tirana la madre ma oddio non sono padrone di me mi accorgo che sono follie allora poi riesco a padroneggiarmi riflettendo sulla mia vita che non è affatto invidiabile sento la forza di protestare che non la cambierei mai a qualunque prezzo con tante altre vite di questo mondo vorrei volare per invitare le creature tutte di amare gesù di amare maria